E dopo il corso cosa faccio? Come posso trovare nuovi clienti? Come posso competere con i grandi nomi della cinofilia? Quanto posso far pagare una mia lezione? Facciamo una cosa, respira e rilassati. Comincio a dirti che hai ragione e che non tutte le scuole fanno questa lezione durante il percorso formativo è che non tutte lo danno come servizio post corso. Non è assolutamente un problema, possiamo aiutarti noi di Affinity Dog. Anche io quando ero al tuo posto mi sono fatto queste domande e posto questi dubbi. Purtroppo a quel tempo ho dovuto arrangiarmi da solo e sbagliare tanto, perdendo anche molto e molto tempo. L'importante è non fossilizzarsi su pensieri negativi o su stereotipi relativi al cambiamento del mondo del lavoro. Il concetto chiave è trasformare il vecchio passaparola da analogico a digitale. Facciamo una consulenza dove ascoltiamo le tue esigenze e dalla fine della quale ti aiuteremo a trovare la modalità giusta per farti conoscere. Dal sito web alla pagina Facebook al profilo Instagram. Tutti questi strumenti sono molto validi per creare lead, ovvero la conversione da contatto a cliente. Creeremo insieme la tua brand identity per il giusto e sentito posizionamento. Non preoccuparti e guardaci subito.